Oggi voglio mostrarvi come io setto la mia Nikon, in particolare oggi ho la Z63, ma questo settaggio per video va bene per Nikon Z63, Z9 e Z8. Andiamo direttamente nel menu e vediamo come impostare al meglio la camera per ottenere un comfort durante le riprese. Voilà, adesso siamo nella Z63 che è ancora in inglese, io ve lo lascio in inglese in modo che è più international. Entrando qui nel menu delle registrazioni video, si chiama Video Recording Menu, andiamo a vedere un attimo i tipi dei file. Questa camera come la Z8 e la Z9 può filmare in RAW, NRAW, Apple ProRes RAW, H265 e H264. Vediamo il file NRAW. Qui, spingendo verso destra, si può entrare e decidere se utilizzare il profilo colore standard oppure un profilo colore Nikon Log. Io vi consiglio di utilizzare il Nikon Log, comunque sia in fase di post-produzione in DaVinci. Puoi vedere, si può andare a selezionare il profilo colore standard, però fa un piccolo switch, c'è una piccola differenza. Cosa voglio dire? Che se noi filmiamo in camera il profilo colore standard e la stessa scena la filmiamo anche in profilo nel log, quando andiamo a mettere le due clip una vicino all'altra e in post-produzione le invertiamo, vuol dire che portiamo anche la seconda clip in standard o viceversa tutte e due le clip in NLog, però una è stata girata in NLog e l'altra in standard, c'è una piccola riferenza tra le due clip. Perciò io consiglio sempre l'NLog. Mentre l'altro formato che di solito io utilizzo per i lavori magari più veloci o dove voglio avere dei file più contenuti è l'H.265 10-bit. L'H.265 10-bit ha una serie di vantaggi o svantaggi. Allora, la qualità è minore, il file più compresso pesa molto meno, comunque è un buonissimo file, ma si può usufruire delle varie agevolazioni che il RAW non ha, perché il RAW è appunto un file grezzo, l'H.265 no. Perciò abbiamo un leggero noise reduction, poi possiamo avere il controllo vignettatura che in camera RAW si può decidere di utilizzarlo quando utilizziamo un inti Nikon nella tabella del RAW. Perciò abbiamo una slide che possiamo spostare da destra verso sinistra per andare a correggere la vignettatura della lente. Qui lo possiamo fare direttamente in camera. Poi abbiamo il diffraction compensation, che praticamente sono delle correzioni della lente che la camera ci permette di fare. Chiaramente possiamo attivarla o disattivarla, lasciarla in on o in off. In H.265 abbiamo per l'appunto anche la voce video flickering reduction, che sarebbe praticamente software che ci va ad aiutare nelle situazioni magari un pochino più documentaristiche dove abbiamo una luce della location che ci fa appunto del flickering e non riusciamo a toglierla. E abbiamo anche l'high frequency flickering reduction. Ah, il VR elettronico. Allora, il VR analogico, cioè il VR sarebbe la stabilizzazione con le lenti che lo permettono e il sensore stabilizzato appunto della Z8, Z63 e Z9. Con il RAW possiamo utilizzarlo, ma non possiamo fare la copiata sensore stabilizzato e il VR, cioè elettronico, cioè la stabilizzazione elettronica, mentre con l'H.265 sì. Altri settaggi fondamentali, ragazzi. Altri settaggi fondamentali per chi vuole ottenere il massimo da queste piccole bestioline. Perché? Qual è la differenza tra questa e una cinecamera? Va bene, una cinecamera, questa, e adesso entriamo in una zona pericolosa. Però sostanzialmente i file, la qualità dell'immagine siamo arrivati a una qualità altissima anche con le camere ibride. La differenza vera è che le cinecamere possono mantenere dei set di produzione molto più pesanti per via delle ventole, che sono enormi, hanno delle ventole che raffreddono le camere, possono stare accese ore e ore e ore senza surriscaldarsi, hanno una serie di connettori più comodi, hanno un form factor, l'ho detto bene questa volta? Form. Hanno un form factor adeguato per essere rigate e tutto. Queste qui sono ibride e sono ottime per quello che sono state studiate. Per professionisti che fanno foto e video hanno bisogno di corpi, ragazzi, economici, perché sono economici con qualità stellari. Punto. Procediamo. Altri menu fondamentali. Andiamo qui sempre in menu. Andiamo nel menu Custom Setting Menu, che è questo qui con la matitina. Entriamo dentro. Andiamo direttamente nella voce G, che sarebbe nella voce video. E dentro, andando verso destra, abbiamo G1, G2. Noi andiamo fino a G12. G12 possiamo settare lo Zibra. Lo Zibra è un partner che noi vediamo, possiamo dirgli noi, a che livello dell'esposizione vediamo. Io di solito lo tengo a 250 per gli highlights, ogni tanto anche 255. 255, dipende, 255 devi stare un pochino più attento, perché diciamo che quando il bianco nella nostra scena, cioè le zone molto luminose, sono senza informazione. Ok? Perciò ho 250 o 255, dovete fare un po' i vostri test. Digliamoli on. Possiamo decidere anche se lo vogliamo per gli highlights, perciò le alte luci, i midtones o tenerlo spento. Io lo utilizzo nelle highlights. Nei midtones di solito si utilizza per lo skin tone. Magari durante un'intervista, se si vuole ottenere un'esposizione perfetta sul volto della persona, si potrebbe andare a selezionare midtones e un value, cioè un valore adeguato. Adesso qui è impostato su 160. Ma di solito queste cose qui le faccio con un monitor esterno e con i false color, che queste camere non hanno, ma hanno il waveform, che vedremo dopo in seguito. La griglia. La griglia ci vuole, per fare delle belle composizioni, io utilizzo di solito il 3x3, perché mi aiuta con la regola dei terzi a fare una composizione più omogenea. Dopo le altre abbiamo diverse, tipo la 4x4 per me è troppo confusionaria, io uso la trabe tra il G16 e G15 e G17. Ecco, questo qui è il waveform. Noi abbiamo, qui, entrate in G15, abbiamo waveform, abbiamo l'istogramma, waveform piccolo, waveform grande. Io utilizzo il waveform grande, questo qua. Io utilizzo il waveform grande, perché così ce l'ho bello per tutto lo schermo. Tanto utilizzando il tasto display, cliccando diverse volte, mi fa un'interfaccia diversa della schermata. E io, come vi faccio vedere nella seconda voce, custom monitor shooting display, vado a impostare, vedi display 1, che è il display 1, che sarebbe il primo tasto. In display 2 vado a mettere il waveform. Il waveform è molto comodo, perché in questa schermata qui possiamo vedere dove stiamo clippando, proprio nel frame. Se vediamo che le luci passano il 255, in alto a destra, magari nel frame abbiamo una finestra e ci entra la luce dall'esterno, che è molto più luminosa. Un'altra voce che vi consiglio di impostare nel menu A, focus e A12, andiamo giù, focus peaking on, qui l'intensità, l'intensità del focus peaking cambia in base alla scena, la luce, la lente che avete, perciò tenete lo standard e se utilizzate magari una lente vintage che è un pochino più morbida non è sufficiente, potete andare a lo fare in high sensitivity, che sarebbe il 3. io tengo il colore rosso, ma anche qui in base a quello che state filmando, potete andare a cambiare come più vi piace. Un'altra piccola cosa che per me è molto importante, è andare nel menu Setup, Setup menu, andiamo giù, qui non ci sono i numeri, perciò dovete scorrere, fino a Non Cap Lens Data, entriamo dentro, e questa è una cosa molto molto interessante, perché possiamo utilizzare lenti vintage, lenti cinematografiche, oppure lenti completamente manuali, e possiamo numerarle, per tipo, questa è la lente numero 1, andiamo giù, gli diciamo che è una focale, che è un 24 mm, andiamo giù, e impostiamo la massima apertura, magari questa è un 2.8, ok, faccio ok, adesso rimarrà registrato, se io rientro, vedete, abbiamo impostato la lente 1, che è un 24 mm, massima apertura, scusate, 2.8, non 2.5, ok, mentre andiamo avanti, lente 2, la lente 2 è il mio, voilà, 85 mm, f 1.4, ok, in questo modo, la camera riconosce la lente, perché lo diciamo noi che lente stiamo usando, perché è una lente manuale, senza pin, senza connettori pin, quindi diciamo noi che lente stiamo usando, c'è la 1, che è il 24 mm, oppure la 2.85, e via dicendo, in questo modo, quando, se vogliamo utilizzare la stabilizzazione del sensore, la camera stabilizza, perché, in caso contrario, se la macchina non vede, un obiettivo, non riconosce l'obiettivo, e non sa che focale ha, non stabilizza il footage, ok, e possiamo selezionare fino a 20 obiettivi, possiamo salvare fino a 20 obiettivi. Ultima, ma non meno importante, ragazzi, visto che tutti si lamentano che il menu è confusionato, posso capirlo, anche se ho il mio parere, posso capirlo che sembra confusionato, ma anche Sony è molto confusionato, Canon è molto confusionato, e Red è molto confusionato, il menu migliore è quello di Blackmagic, ha sviluppato bene, non voglio togliere i meriti a nessuno, però hanno anche meno future, hanno meno skill, non so come dire, hanno meno cose da inserire all'interno, ok, perciò abbiamo il nostro My Menu, comodissimo, e vi consiglio di selezionare le cose che più vi servono, e andarle a mettere qua, nel vostro menu, io adesso questo qui è la Z63, che purtroppo non è mia, Nikon, se me la volete lasciare, noi la usiamo, vero? Noi la usiamo, perciò ancora non vi ho impostato niente, però nella mia Z8, quella che mi sta filmando in questo momento, è pieno, ok, io vi faccio vedere di solito che cos'ho, e lo facciamo assieme, perciò entriamo in My Menu, Add Adds Item, Let's Go, e qui avete tutti i menu, appunto, che sono questi qua sopra, vedete, questi menu che vediamo qua, sono questi menu qua, che vediamo qua di fianco, ok, Shooting Menu, Video Recording, ok, perciò qui abbiamo Type File, e l'abbiamo inserito, poi, Add Item, io voglio, magari, nel setup menu, prendere Format Card, boom, e lo inseriamo, ok, poi, dal setup menu, mi piace anche, quella voce appunto, che vi ho fatto vedere prima, dei Knock Up File Data, andiamo a prenderla, Knock Up Length Data, scusate, ok, e lo inseriamo, Done, ok, Add Items, nel video recording, c'è anche la qualità del RAW, scusate, che non ve l'ho detto prima, perciò, se siete arrivati fino a questa parte del video, sapete come utilizzo io, la qualità del RAW, io la utilizzo in normale, perché si divide in alta qualità, o qualità normale, solo quando filmiamo in N-Log, scusate, in N-Raw, io lo tengo in qualità normale, il file pesa la metà, e abbiamo una perda, irrisoria, quasi nulla, fatta dai miei test, se avete la Nikon, vi consiglio di fare i vostri test, ma quello che ho potuto vedere io, la qualità, la perdita di qualità, è non nulla, proprio nelle basse luci, forse leggermente più rumorosa, ma, niente, perciò io uso, qualità normale, ok, perciò NQ sarebbe, sarebbe un NQ, ok, Add Items, in video recording, abbiamo messo qualità, add immagine, White Balance, queste cose qui non le metto, perché ce l'ho nel menu qua, veloce, io tengo il A12, che sarebbe il picking, e me lo metto anche in questo menu qua, me lo metto nel menu personalizzato, così lo trovo subito, se voglio inserirlo, disinserirlo, se mi dà fastidio, e voilà, vediamo che cosa abbiamo, adesso dovrei guardare la mia Z8, per me ho qualcosina in più, ma comunque, sono cose che voi costruite, durante i vostri shoot, o anche quando fate le prove, in base a come vi piace di più, comunque sia vi consiglio di, avere, sicuramente, picking, qualità, formato della qualità, qualità del RAW, il tipo del file, il knock up, format memory card, che adesso è grigio, perché non ho la memory card, inserita, video assist, mettete il G11, il video assist, il video assist, chiama in italiano, visualizzazione ausiliaria, praticamente è una LUT, che quando si filma, in log, si può attivare, o desattivare, praticamente colora un attimo l'immagine, se siete con un cliente, che vi sta guardando in camera, potete colorargliela, non sempre funziona bene, nel senso, spara molto le luci, voglio dire, che se avete, la visualizzazione ausiliaria, in camera, e guardate la scena, può sembrare, che state magari, clippando, o le altre luci, sono bruciate, ma in realtà, voi state filmando il log, e le luci, non sono bruciate, affatto, consiglio, di scaricare, una LUT, noi, mi vendiamo una, però, siete liberi, di utilizzare quella che volete, caricarla nel vostro monitor esterno, se siete in un set, con la camera rigata, magari con un monitor esterno, e utilizzare la vostra LUT di fiducia, io vi consiglio la nostra, che si chiama Milk LUT, e la potete trovare su, filmmilk.it, e la potete trovare su, filmmilk.it, ok, abbiamo messo appunto la LUT, ok, a questo punto, avete il vostro menu personalizzato, completato, per adesso, e potete, andare a, Rank Items, a selezionare, le cose, che più vi servono, del tipo, potete mettere in cima, le cose che per voi, sono più importanti, in cima di solito metto, memory card, cioè format memory card, perché lo voglio avere, come prima di tutti, dopo mi piace avere, il type, il video, la qualità del video, che tipo di file, vogliamo produrre, perciò se, H15, in RAW, e via dicendo, sotto, mi piace avere, il video quality in RAW, perciò la qualità del RAW, anche se la uso sempre in normal, però mi piace averla lì, poi abbiamo, lo vibra, video assist focus, picking knock up, per me così, è ordinato abbastanza bene, così, abbiamo il nostro menu, personalizzato, pronto all'uso, ultima cosa, ma non è importante, ok, io utilizzo molto, 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 molto spesso, anche, la I, che è il menu veloce, che è questo qua, non lo cambio, nel senso, questo è personalizzabile, ma io lo tengo così, perciò abbiamo, Weight Balance, qui abbiamo ancora, il formato del file, il microfono, la sensibilità del microfono, che possiamo scegliere, quanto è vero sensibile, l'area, per la messa a fuoco, se siamo in fuoco manuale, fuoco continuo, singolo, e via dicendo, le stabilizzazioni, elettronica, ed il sensore, qui abbiamo il custom control, wind reduction, airplane, e via dicendo, è un menu che uso molto, ma uso più che altro, Weight Balance, il formato del microfono, le messe a fuoco, e le stabilizzazioni, queste cose qui, non mi capita di usarle molto spesso, diciamo che, come menu, mi accontento di questo, e secondo me, non ho bisogno di altre cose, questo è tutto, questo è come, io utilizzo, la Z63, la Z8, e la Z9, perché sono identiche, ragazzi, a livello di menu, e anche, la Z63, ricorda molto la Z8, come impostazione dei bottoni, quindi, mi sono subito trovato molto bene, questi sono i miei consigli, per ottenere, delle buone riprese video, specialmente, non dimenticatevi, il knock up, lens data, perché, con quella feature, potete davvero, ottimizzare, di tanto, quando utilizzate, le lenti vintage, o le lenti cinematografiche, e vi posso dire, per esperienza personale, che il footage, vi cambia da così, a così, per invece, chi si avvicina, che arriva, come ho fatto io, d'altronde, da cinecamere, e si spaventano, perché, questa, ci si spaventa nel menu, consiglio di creare, il menu personalizzato, disattivare tutto, filmare il RAW, disattivare la stabilizzazione, utilizzate le vostre lenti, con cui siete abituati a filmare, perché io so, che chi arriva da, con un approccio, un pochino più, da filmmaker, e meno da videomaker, magari, utilizzate le lenti cinema, o anche quelle entry level, però le lenti cinema, o le lenti vintage, e via dicendo, perciò vi consiglio, di disattivare tutto, e godetevi, questo file RAW, perché è davvero, tanta roba, dopodiché, quando avete più tempo, magari potete sperimentare, la stabilizzazione, le lenti fotografiche, con l'autofocus, perché anche quelle, sono tanta roba, però, bisogna un attimo, prendersi il tempo, e andare di pin, nei settaggi, anche appunto, dell'autofocus, sono diversi settaggi, e capire bene, come funziona, niente, per oggi è tutto, spero sia utile, se avete domande, potete chiedermelo qua sotto, su Instagram, sapete che io rispondo, non è un problema, grazie, alla prossima, grazie, Grazie a tutti.